Ciao, da stasera ho deciso di condividere le frasi più belle del nostro tesoro culturale persiano-islamico. La frase numero uno appartiene al nostro libro sacro Corano, in cui si dice così Gli esseri umani più amati da Dio sono coloro che camminano sulla terra con una specie di modesta tranquillità e senza l'arroganza e quando una persona sciocca, una stupida, li chiama e comincia ad insultarli sempre reagiscono in una stessa maniera, cioè salutano brevemente e riprendono la loro strada comportandosi indifferentemente. Pensateci bene e lasciatemi i vostri commenti. Sono molto curioso di sapere i vostri punti di vista e vi prego di non perivarmene. Ciao, ciao!